...e avere una grande opportunità per l'intera legge regionale. Qual è il problema? Che ci sono delle questioni sulle quali bisogna intervenire. Noi eravamo allarvati, allertati da alcune vicende, se qualcuno di voi avrà la voglia di leggere la relazione del 2016 del procuratore nazionale antimacchio, il rapporto Macchio-Lazio che è stato redatto dalla regione Lazio e dall'Associazione Libera, leggerà che ci sono una serie di segnali di attenzioni necessarie all'interno di questo centro agroalimentare che è enorme, ma poi lo diranno insomma chi intervera dopo di me. Ci sono una serie di segnali di attenzioni e di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. La procura di Tivoli non si occupa della criminalità organizzata perché di questo si occupa la procura di Roma e il dottor Cignatone con il quale ovviamente i contatti sono concili. Però la nostra attenzione è massima. Quindi ieri è stata eseguita un'ordinanza cautelare, ho messo dal giudice dell'indagine preliminare di Tivoli, all'esito delle indagini, ho detto, diretto dalla procura di Tivoli, commissariato di Tivoli e squadra mobile di Roma, nei confronti di sette persone, sette egiziani, cinque misure sono state eseguite. Vedete qui le immagini? Io ho autorizzato e quindi qui a breve il commissario manderà a chi è interessato le foto degli attestati perché per ragioni investigative ho ritenuto che dovessero essere diffuse perché ovviamente non mi possiamo dare tanti dettagli. Il giudice dell'indagine preliminare ha messo questa ordinanza, cinque li abbiamo attestati, due sono lati tanti in questo momento, il GIF e il dottor Cisterna e devo dare atto che è intervenuto, queste sono indagini, i fatti di cui stiamo parlando, per i quali è stata messa la misura, è un tentato omicidio, anzi più tentati omicidi che poi non sono consumati solo per eventi casuali, di cui vi parlerà il collega, tentati omicidi molto gravi, con dinamiche estremamente cruente, di cui vi parlerà sempre il collega, i fatti sono dell'agosto del 2016, quindi oggi siamo a dicembre, quindi la procura interviene, interviene velocemente grazie alle forze dell'ordine, il giudice delle indagini preliminari è molto veloce, a me interessa non tanto dirvi quello che dice la procura, perché a me interessa ciò che dicono i giudici, perché i PM fanno le indagini e i giudici decideranno, e il giudice delle indagini preliminari di Tivoli nell'ordinanza scrive questo, vi leggerò una frase che non ve ne posso dare il testo per ragioni varie. Il centro agroalimentare di Guidonia è al centro da anni di furiosi scontri e risse tra gruppi etnici per il controllo del mercato e per il controllo del lavoro del personale, in massima parte extracomunitario. In questo scenario, notorio per l'ufficio, il GIF, chiamato in saliata occasione di occuparsi di queste vicende, il 23 e il 28 agosto 2016, si collocano i due episodi che il PM è contestato nell'imputazione e sono i fatti di cui vi parlerà il collega. Concludo il giudice delle indagini preliminari raccogliendo la tesi della procura, queste due spedizioni punitive, perché parliamo di due spedizioni punitive, queste spedizioni punitive si inquadrano in un'escalation di azioni criminali ideate ed attuate da il Scott Sciro, che è indicato lì, e da un gruppo di sui connazionali per rafforzare l'autorità e la capacità di intimidazione funzionale alla posizione già acquisita di acquirente privilegiato di prodotti otticoli all'interno del caso, eccetera, eccetera. Quindi emerge, conclude il GIF, si tratta di un ulteriore significativo indizio dell'esistenza di un allarmante contesto di infusa illegalità e di astenza di controlli nei quali il gruppo di ERCOT può agire, eccetera, eccetera, non vi dirò altre cose che possono avere interesse solo investigativo. Quindi la procura interviene perché abbiamo un luogo dove dovrebbe operare la legalità, dove in realtà si stanno inserendo dei gruppi criminali che stanno agendo anche in modo cruento attraverso episodi che vi saranno raccontati qui a breve, ci sono indagini ancora in corso su una serie di episodi, c'è stato anche un omicidio sul quale sono in corso le indagini in questo momento e siamo venuti, insomma, con la misura paterale, quindi abbiamo interrotto queste indicazioni criminali. Chiaramente massima è l'attenzione della procura rispetto a tutto quello che accade, perché come sapete il nostro obiettivo, grazie a forze dell'ordine qualificate, anche i carabinieri non sono presenti in questo caso nella Guardia di Finanza, ma altre operazioni sono state seguite in questi giorni, tentiamo di controllare il territorio. Dare la parola al dottor Giussolino che può descrivere un po' nel dettaglio l'episodio di cui parliamo. Sì, come dicevo il Procuratore, si tratta di due spedizioni punitive che si sono consumate il 23 e il 28 agosto all'interno del carro. Per dare un'idea del titolo di azione di cui stiamo parlando, forse è il caso che ci concentriamo su queste immagini che sono state estratte dal sistema di registrazione all'interno del carro. Perché le modalità di queste due azioni sono tali da far chiaramente pensare che si tratti di azioni premeditate, organizzate, selezionate e portate a compimento con un numero importante di persone, come vedete armati di bastoni. Nel caso dell'episodio del 28 agosto, una delle persone aggredite ha riportato gravissime ferite alla testa ed è stato salvato soltanto perché c'è stato il pronto intervento dell'ambulanza e perché naturalmente è stato sottoposto a un dedicato intervento chirurgico presso il reparto di neurochirurgia della politica.